L'ultimo risultato trimestrale di Disney c'è a riflettere sull'ottimo lavoro che ha fatto l'azienda sul proprio servizio di streaming. Dopo aver raggiunto un numero considerevole di utenti, anche Disney Plus vedrà i propri prezzi aumentare per raggiungere la redditività. La buona notizia per Disney è che i suoi principali rivali, Netflix e Warner Bros Discovery, stanno adottando misure simili. Tutto questo limita quello che è il danno competitivo. Gli unici veri perdenti sono i consumatori, per i quali giorni felici di uno streaming a basso costo e senza pubblicità diventeranno presto un ricordo del passato. Disney Plus è il servizio streaming di Walt Disney lanciato ufficialmente il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi. Da allora il servizio ha avuto una crescita esponenziale grazie al basso costo mensile e all'ottima qualità dei contenuti al suo interno. La qualità del servizio offerto è stato evidenziato proprio dai risultati di quest'ultimo trimestre. Disney Plus infatti ha raggiunto i 221 milioni di abbonati, superando ufficialmente Netflix che attualmente ne registra 220 milioni. Dopo essere cresciuto così velocemente, il servizio di streaming ora inizierà a puntare più sulla redditività. In linea infatti con gli altri competitor, Disney prevede di aumentare il costo mensile e di introdurre una versione con pubblicità allo stesso costo di quello attuale. Il prezzo della versione senza pubblicità di Disney Plus negli Stati Uniti aumenterà del 38%, a 10,99 dollari, mentre la versione con annunci rimarrà al vecchio prezzo di 7,99 dollari. Basterà questo aumento per tramutare le attuali perdite del servizio streaming in profitti? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare quanti utenti saranno disposti ad accettare il nuovo tariffario senza disdire il proprio abbonamento. Disney ritiene che le perdite saranno contenute proprio grazie al piano con pubblicità che permetterà agli utenti più attenti ai costi di continuare a guardare i contenuti offerti ad un prezzo vantaggioso. La visione esposta dal CFO della società viene supportata su una base di dati di un altro servizio streaming di proprietà della Disney, ovvero Hulu. La piattaforma in questione ci mostra quanto la versione pubblicitaria sia più popolare della versione senza pubblicità, sostenendo un futuro di possibili profitti per Disney Plus senza la perdita dei propri abbonati. Bene, ora dopo aver visto tutto quello che abbiamo descritto in precedenza sul servizio di streaming di Disney, cerchiamo di arrivare ad una sua valutazione. Ad oggi Disney gira su un market cap di 203,74 miliardi, ha un EPS di 1,75 dollari per azione, con un gross margin del 34,43%. Il net profit margin si è ridotto drasticamente nel periodo pandemico ed è ancora non è riuscito a ritornare ai livelli pre-pandemia. Ad oggi infatti si attesta al 3,93%. Un dato finanziario importante è sicuramente il ratio debt to equity, che si attesta ad oggi al 48,7% in calo rispetto al 2021. Questo grafico importante ci mette a confronto la crescita dell'azienda contro la crescita dell'industria, in questo caso quella dell'intrattenimento. Vediamo infatti che gli earnings sono previsti in crescita per l'azienda di un 31,1%, un punto percentuale in più rispetto a quella che è la crescita della stessa industria. Per quanto riguarda invece la crescita degli utili è prevista una crescita dell'8% contro una crescita dell'industria del 9,8%. Negli ultimi 5 anni abbiamo visto Disney fortemente penalizzata proprio dal periodo del 2020. Se prendiamo infatti la crescita degli utili degli ultimi 5 anni vediamo che il net income dell'azienda si è ridotto drasticamente del 38,6% mentre la crescita degli utili dell'industria è aumentata del 26,1%. Questo dato come detto in precedenza è fortemente influenzato dal periodo pandemico in quanto gran parte dell'utile di Disney è proprio derivante da quello che sono i parchi tematici. Guardando questo grafico si può notare esattamente quanto ha impattato il periodo pandemico sull'azienda. Dal 2017 al 2019 vediamo una crescita costante. Con il 2020 gli utili sono andati sotto zero con un aumento esponenziale del debito che è arrivato a toccare quasi il 65%. Nel 2021 invece la situazione sembra riassestarsi con un net income positivo e una decrescita su quello che è il rapporto debt to equity. Arrivando infine a fare una valutazione utilizzando il discounted cash flow model valutiamo Disney 213,96 dollari per azione quindi la riteniamo sottovalutata sul prezzo di oggi di un 47%. Ovviamente le nostre stime non possono essere perfette per cui andremmo ad applicare un margine di sicurezza di un 20% che fa arrivare Disney ad una valutazione di 171,16 dollari per azione. Nonostante quel margine di sicurezza elevato Disney ci risulta sottovalutata di un 34%. Nel periodo pandemico l'azienda era arrivata a toccare quasi gli 80 dollari per azione. Abbiamo deciso dunque nello stesso periodo di aprire una posizione in Disney che abbiamo mantenuto fino al 2021 anno di piena euforia dei mercati. La decisione di vendere l'azienda intorno ai 170-180 dollari per azione è arrivata a seguito di un'altra analisi effettuata proprio in quel periodo. Avevamo visto infatti che anche con le migliori prospettive l'azienda in quel momento ci risultava leggermente sopravvalutata. Da lì infatti la decisione di vendere nonostante l'azienda ci piaccia veramente tanto. Dopo essere ritornata ai livelli pandemici a luglio 2022 abbiamo deciso così di effettuare una nuova valutazione di Disney. Ad oggi con questi margini di sicurezza sicuramente è un'azienda molto interessante da tenere in watchlist. Lascia un mi piace ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Alla prossima!